Desidero anteporre questa breve introduzione. Io sono un filosofo, ma posso anche dirvi, senza nessuno sfoggio di chissà che, di essere la verità assoluta, essenziale, che si è nuovamente riproposta, mediata da una persona umana che la esprima. Voi, se avrete la pazienza, e mi riferisco ai filosofi, agli uomini di religione e di scienza, se avrete la fede e la speranza che ciò possa esistere e vi occuperete di queste lezioni che io qui inizio, ve ne accorgerete. Vi auguro a tutti buon lavoro.